bella a tutti ragazzi e benvenuti al nostro nuovo video contest io sono xyuder e io la famina finalmente dopo quattro giorni siamo arrivati al contest numero 22 ce l'avete fatta avete fatto i pazzi ci avete fatto fare due tre contest di fila dopo un po di calma finalmente ragazzi siamo al contest numero 22 che vedrà uno di voi portarsi a casa un bel buono da 10 euro se lo può spendere come ricarica telefonica portafoglio playstation 4 oppure xbox o anche nuovissimo ragazzi nintendo switch quindi mi raccomando dovete solo commentare con la parola chiave che è adesso ne vogliamo 100.000 senza tutte le a che ha usato lei alla fine ha problemi scusa allora adesso ne vogliamo 100.000 mi raccomando spiegagli quali sono le regole alle 10 seguitela live però l'estrazione alle 10 vale un commento e dovete rispondere solo con la parola chiave se scrivete primo grande forza non valgono solo un commento siate presenti mi raccomando rispondete subito con la vostra mail se no passeremo oltre esatto noi ci vediamo in live ciao ciao